Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi apriremo, come vedete, album panini dei calciatori questa è l'edizione 2023-2024, questa è un'edizione speciale perché al suo interno porta 6 pacchetti di figurine come potete vedere di tutte le nazionalità, di tutti i calciatori e quindi vi facciamo vedere all'interno cos'altro c'è, poi c'è una rivista con la scritta Boomer tra cui il grande, oh sì, questa rivista ci sono tutti gli accorgimenti, il Milan, il Bologna, tutti i big match il Napoli con il Milan, tutte le cose che riguardano il calcio mentre questo è l'album panini normale, ci sono le prime due figurine in omaggio e qui ci sono altre 4 alla fine che sono omaggio e quindi ci sono tutto il campionato di serie A, serie C, serie B, le coppe, gli allenatori e tutto il resto vedete, tutte le squadre e adesso apriamo le nostre bustine Mattia apre le sue bustine vediamo un po' sono un po' arrabbiato vediamo chi esce ma vediamo che ci sono arrabbiato quindi ha perso il Napoli va bene queste sono le figurine che sono uscite le prime c'è uno, due, tre badella quattro poi cinque sei forza poi sette otto e nove poi apriamo le altre bustine e vediamo chi sono apriamo il secondo pacchettino di bustine apriamo bene 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 e mettiamoli tutti in fila Nathan Nathan vediamo speciale speciale questa è una carta speciale poi ci sono i vari la seconda pagina hashtag poi un altro un altro ancora che belle queste apriamo ancora? l'ultima bustina per Mattia poi domani le compriamo un'altra certo vediamo cosa c'è serie B serie B poi ed ecco qui nell'ultima bustina c'è Garzia ex allenatore del Napoli Raffaele Raffaele Palladino e questi altri calciatori e c'è il mio e questo ok adesso apriamo quelle di Alfonso pronti con la prima bustina? sarebbe sarebbe e questo è tutto il bottino della prima bustina apriamo la seconda sì poi la squadra completa della Lazio poi non so questi cosa sono altri calciatori ok anche qualcuno dell'aiuto ultima bustina Sommer forte? è il portiere dell'Inter ah ok Allegri ok ragazzi noi attacchiamo le figurine e per questo video è tutto lasciate un like attivate la campanellina iscrivetevi e ciao ciao